Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare però, scusatemi, ho la voce un po' giù, ho avuto la febbre, ho la tosse, ho un po' di mal di gola, ho il raffreddore. Non sto così tanto male, ho solo la voce giù, quindi perdonatemi se la voce non sarà la stessa di tutti gli altri video. Detto questo, procediamo. Oggi esploriamo il caso intrigante e inquietante di un criminale seriale che ha terrorizzato gli Stati Uniti tra il 2001 e il 2012. La sua metodologia unica e la sua capacità di nascondere le prove lo hanno reso un vero enigma per le forze dell'ordine. Israel Keys nasce a Richmond il 7 gennaio 1978 e cresce per i primi anni di vita a Cove, nello Utah. Abita con suo padre Jeff, sua mamma Heidi e ben nove fratelli. La sua è una numerosa famiglia mormone, i suoi genitori coltivano delle convenzioni piuttosto estreme, sono membri della chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Torrens. Jeff e Heidi hanno sfiducia nel governo, non credono nell'affidabilità della medicina e degli ospedali e diffidano anche del sistema scolastico pubblico. Infatti tutti i loro figli sono nati a casa e studiano in casa. Nel 1983 un vicino, preoccupato perché non vede mai bambini fuori dalla loro abitazione, contatta i servizi per l'infanzia. Dopo questa segnalazione la famiglia, per evitare che qualcun altro si intrometta nella vita dei suoi membri, vende la maggior parte dei suoi averi, lascia la comunità religiosa, fa le valigie e si sposta nello stato di Washington. Qui Jeff compra un appezzamento di terra appena fuori dalla cittadina di Colville, nella contea di Stevens, ma in una posizione remota. Il terreno infatti si colloca in cima a una montagna, dunque i keys non hanno molti vicini, bensì vivono in una zona abbastanza isolata. Israel, che ora ha 5 anni, rimarrà qui per il resto della sua infanzia, affrontando diverse difficoltà insieme al resto della famiglia, l'assenza di elettricità e di acqua corrente, il cibo limitato ai frutti e alle verdure che possono piantare nel loro orto o a quello che riescono a cacciare, i faticosi lavori di taglialegna o di fattori svolti fin da bambini. Intanto i ragazzi continuano a essere istruiti a casa e stranei all'educazione tradizionale. Sono costretti a memorizzare quotidianamente le scritture e non viene loro permesso di socializzare con altri bambini, specialmente se professano una fede diversa da quella della famiglia keys. Come detto, i coniugi nutrono una sfiducia considerevole nei confronti delle autorità governative e tutti i loro figli, nati in casa, non hanno mai ricevuto il certificato di nascita o i numeri della previdenza sociale. Per i primi 7 anni la casa dei keys, dove vivono ben 12 persone, è una capanna di legno che comprende una sola stanza. Dato che si tratta di un ambiente alquanto angusto, Israel e i suoi fratelli si spostano in una tenda all'esterno per gran parte dell'anno. Quando Israel entra nell'adolescenza, Heidi e Jeff decidono di lasciare la religione mormone per unirsi a una chiesa cristiana fondamentalista, la Christian Israel Covenant Church. La dottrina di questa chiesa, che si struttura come una milizia, si basa sull'israelismo britannico. Infatti, considera il meticcio come un'abominevole deviazione ed esalta il governo dei bianchi sulle razze percepite come inferiori. In altre parole, è una comunità antisemita e suprematista e le stesse istituzioni americane la definiscono come un'organizzazione razzista. Nella tarda adolescenza, Israel si lascia coinvolgere particolarmente dall'aspetto della preparazione militare coltivato in questa chiesa, perché è affascinato dalle armi da fuoco. La sua passione sfaccia però in un risvolto preoccupante. Infatti, Israel si procura una pistola BB gun e si sposta nella città vicina per sparare contro le case delle persone, colpisce le finestre e irrompe nelle abitazioni per rubare. Principalmente, cerca altre armi. In poco tempo, il giovane diventa l'incubo che terrorizza la zona. Israel non è capace di interagire con le altre persone. Trascorre la maggior parte del suo tempo da solo, nei boschi, e si limita a osservarle, facendo in modo di non essere visto. Col tempo, i boschi diventano la sua seconda casa, tanto che impara a mimetizzarsi nella vegetazione. E presto, purtroppo, inizia anche ad accanirsi contro gli animali. Quando li uccide, avverte un brivido di piacere che gli attraversa la schiena. E questo va al di là dell'esigenza della caccia, a cui era abituato fin da piccolo. Ad esempio, Israel detesta il gatto di sua sorella. Gli dà fastidio anche solo vederlo, soprattutto quando il micio si infila tra la spazzatura e combina un gran macello. Israel avverte sua sorella. Se ritrova di nuovo il gatto tra i rifiuti, lo ammazzerà. Ma la ragazza non può trascorrere la giornata a controllare il suo animale e il povero felino non può certo rimanere fermo in quella capanna che è già sovraffollata dai membri della famiglia. Così, quando Israel lo ribecca nella spazzatura, lo porta nel bosco insieme ad altri bambini, lo lega a un albero e gli spara allo stomaco. La sua crudeltà però non termina qui perché il gatto non muore subito dopo il colpo, ma inizia a vomitare e Israel lo guarda a star male e rite di gusto. Una volta che il micino è morto, Israel si guarda intorno, ma gli altri bambini che hanno assistito alla scena non si stanno affatto divertendo, a differenza sua. Infatti, da questo momento, smettono di andare con lui nei boschi. I figli della famiglia Keys socializzano con altri ragazzini e adolescenti che frequentano la stessa chiesa, soprattutto con quelli della famiglia Keo. Neanche i Keo sono tipi tranquilli, anzi sono coinvolti nella vendita di armi al mercato nero e sono noti per essere violenti e razzisti. Infatti desiderano scatenare una guerra razziale. In particolare, i due fratelli Shevy e Shane non hanno una buona influenza su Israel. Da adulti, infatti, entrambi diventano dei criminali, coinvolti con le organizzazioni suprematiste bianche eppure in rapine, sparatorie, rapimenti e omicidi. Nel 1997, Shane verrà arrestato e condannato alla detenzione per 24 anni. Shevy, invece, riceverà come pena l'ergastolo per l'omicidio e la tortura di una famiglia di tre persone che include, purtroppo, un bambino di otto anni. La storia di questi due fratelli dovrebbe aggiudicarsi un video a parte, ma ve l'ho accennata per spiegarvi in quale ambiente è cresciuto Israel. Arriviamo al 1997, quando la famiglia Keys si trasferisce nuovamente, stavolta a Mopin, città dell'Oregon. Qui la personalità e le nuove convinzioni di Israel si solidificano. Comunica alla sua famiglia che è ateo, ormai stufo delle credenze rigide dei suoi genitori che non condivide più. In tutta risposta, Jeff e Heidi lo cacciano di casa e non vogliono più avere niente a che fare con lui. Si vergognano di avere un figlio come lui e ordinano anche ai suoi fratelli di non parlargli mai più. In seguito, i Keys lasciano l'Oregon e si uniscono a una comunità amish nel Maine, ma non portano Israel con loro. Il giovane diventa affascinato dal satanismo e si fa tatuare un pentacolo sul collo. In questo periodo, Israel si rende conto di essere diverso dalla gente che lo circonda. Lui ha un lato oscuro, vuole uccidere qualcuno, ne sente l'impulso e inizia a fantasticare sulla vittima fino a che queste fantasie non si trasformano in un'ossessione. Israel si appassiona ai serial e ai loro percorsi, legge libri su Dennis Raider, BTK e Ted Bundy, che quel tempo diventa il suo idolo. Ma non si ferma qui, consulta anche dei volumi sul profiling per studiare quali aspetti definiscono un assassino come un serial e per capire come i più famigerati assassini sono stati catturati. Vuole individuare le loro mosse false e lui si sviluppa la feroce convinzione di possedere la capacità naturale di uccidere. Nel suo profondo Israel sa che è in grado di esercitare violenza sulle persone e di compiere un omicidio. Israel rivela una personalità narcisistica fin dalla tenera età e quando compie 19 anni inizia a mettere in atto i suoi piani. Sente di poter commettere il delitto perfetto e farla franca. È pronto a selezionare la sua prima vittima. Siamo sempre nel 1997 e Israel si trova nei pressi del fiume Deschutes, in Oregon. A un certo punto nota un gruppo di ragazze adolescenti che si sta divertendo facendo rafting. Quando una di loro si allontana dal gruppo, Israel decide di agire. Si avventa sulla ragazza, la ferra, la trascina fuori dal fiume, la porta in una latrina abbandonata, la lega e la aggredisce intimamente. Poi pensa a come ucciderla. Non è nota l'identità di questa ragazza. Israel affermerà che poteva avere dai 14 ai 18 anni. Lei prova a farlo ragionare, lo prega di lasciarla andare, gli chiede perché le stia facendo del male. Poi compie il disperato tentativo di adorarlo. Dice che è troppo bello per rapire e fare violenza su una donna. Lui non ne ha bisogno e lei sarebbe uscita con lui volentieri. Queste chiacchiere fanno perdere la pazienza a Israel che sta ancora pensando a come ucciderla. Ma alla fine le parole della ragazza riescono a farlo desistere. Lui non l'ammazzerà, le dice. Ma se lei avesse raccontato qualcosa a qualcuno, se fosse andata dalla polizia a sporgere denuncia, allora gli avrebbe dato la caccia. L'avrebbe trovata e uccisa. Dopo le minacce, Israel lascia andare la sua vittima che per timore non ha mai denunciato la caccia, né lo ha riferito a nessuno. Tuttavia Israel ora è infuriato con se stesso perché ha fallito. Si pentirà amaramente di non aver ucciso quella ragazzina e per anni tornerà con la mente all'accaduto per rimproverarsi. Israel si autocritica pesantemente, anche perché secondo lui l'aggressione che ha messo in atto non è stata abbastanza violenta. Infine giura a se stesso che non avrebbe mai più avuto titubanze. Nel 1998 Israel decide di arruolarsi nell'esercito e ci riesce, sebbene non possieda né un certificato di nascita né un numero di previdenza sociale. Tuttavia a causa della sua educazione limitante non riesce mai ad ambientarsi. Non sa come interagire e fare amicizia con gli altri militari, non sa cosa sia il football, non sa nulla di musica. Gli altri lo considerano imbarazzante e presto Israel diventa un emarginato. Diventa anche noto per la sua dipendenza da alcol e sostanze che si intrattiene con le passeggiatrici per poi capire di essere omosessuale. Israel usa tantissima polverina bianca quotidianamente e riesce ad amare la sua presenza nell'esercito grazie alla conoscenza aggiornata delle armi. Dopo tre anni e varie assegnazioni negli Stati Uniti trascorre anche un po' di tempo in Egitto ma poi subisce un'accusa di guida in stato di ebrezza. A seguito del patteggiamento riceve una multa di 350 dollari e gli viene concesso un congedo con onore per il suo servizio da artigliere. Dopo che ha lasciato l'esercito Israel conosce una donna di nome Tammy, i due si mettono insieme e presto danno alla luce una bambina di nome Sara. A seguito della nascita di Sara Israel e la sua famiglia si stabiliscono in una riserva vicino a Nibay, a Washington. Israel ha poco più di 20 anni e sta conducendo una vita apparentemente normale. Sorprendentemente si rivela un buon padre è molto primuroso con Sara ed è anche un buon partner per Tammy. Israel va d'accordo con gli altri residenti della riserva trova un impiego come operaio edile e lavora nelle case degli abitanti della zona. È un membro stimato della comunità e tutti lo adorano. L'unico difetto che la gente gli attribuisce è il consumo eccessivo di alcol. In giro, infatti, si dice che sia solito bere una bottiglia di whisky e una confezione da sei lattine di birra ogni giorno. Ogni tanto, quando è ubriaco, Israel confessa a Tammy di essere una persona cattiva, con un cuore nero, un lato oscuro. Chiaramente la sua compagna non ha idea di cosa stia parlando. Per lei, Israel è una persona così buona, un ottimo padre, un bravo partner. Ma proprio a questo punto, nella vita di Israel, il lato oscuro viene allo scoperto. Nel 2001, non molto tempo dopo il trasferimento nella riserva, a Israel verrà attribuito il primo omicidio. Il cadavere di una donna viene trovato mentre galleggia in un lago nelle vicinanze, ma la sua morte viene dichiarata come un incidente. Soltanto in seguito, Israel rivelerà alla polizia che, invece, si trattava di un omicidio da lui commesso. Poi, tra il 2001 e il 2005, una giovane coppia viene uccisa a Washington. L'uomo è stato picchiato a morte, mentre la donna è stata strangolata. Israel confesserà anche questo duplice omicidio. Infine, tra il 2005 e il 2006, vengono trovati altri due corpi, uno dei quali è stato gettato nel lago Crescent, a Washington. Anche se appartengono a due vittime assassinate in occasioni distinte, Israel dichiarerà di essere l'autore di entrambi i reati. In realtà, mancano delle prove che colleghino a lui questi decessi, oltre ogni ragionevole dubbio. Si ritiene che Israel abbia confessato il vero, ma questi rimangono classificati come delitti irrisolti. Inoltre, queste uccisioni sono avvenute in aree remote, cioè le più frequentate da Israel, chiama a sedersi nei boschi, scovare luoghi abbandonati o isolati, dove aspettare che la vittima gli si avvicini da sola. Ciononostante, gli omicidi commessi a Washington rappresentano per lui un allenamento che gli ha permesso di affinare le sue capacità d'assassino, rendendolo particolarmente meticoloso. Arriviamo quindi ora al 2007. Israel ha 29 anni e vive nella riserva da circa 7 anni. Decide però che è pronto per un cambiamento, perché l'ambiente familiare è diventato pesante. Tammy purtroppo ha seri problemi di salute, le è stato diagnosticato un cancro all'utero, deve sottoporsi a un'isterectomia e sviluppa una grossa dipendenza per gli antidolorifici. Intanto Israel, ahimè, non le sta affatto vicino, piuttosto inizia a uscire con un'altra donna di nome Kim. Decide di lasciare la sua compagna per stare con Kim e porta sua figlia Sara via con sé. I tre si trasferiscono in Alaska, precisamente si stabiliscono nella città di Anchorage. Qui sembra che Israel abbia ripreso una vita normale, avvia un'azienda di costruzioni che chiama Keys Construction, continua a essere un ottimo padre, coltiva una buona reputazione e tutti ad Anchorage lo considerano un abile falegname della zona. Tuttavia la sua voglia di uccidere sta per riemergere. Vi ricordo che il fine di Israel non è solo uccidere, no, lui vuole compiere l'omicidio perfetto, per questo ha trascorso anni a studiare le storie di serial famosi per capire come sono stati catturati ed evitare di commettere i loro errori. La prima regola che sceglie di darsi per non rischiare di essere scoperto è non commettere mai omicidi vicino a casa e non uccidere mai nelle zone che frequenta. Dunque deve scegliere la sua vittima casuale in un posto altrettanto casuale che non abbia alcun collegamento con lui. In secondo luogo ha appreso che spesso i serial sono stati catturati perché tornavano sulla scena del crimine. Ecco, lui non avrebbe mai commesso questo errore. Quanto ai requisiti delle vittime, Israel stabilisce che avrebbe ucciso uomini e donne di diverse etnie, e di diverse età e che mai e poi mai avrebbe ammazzato dei bambini. Avrebbe evitato anche di prendere di mira le persone con figli piccoli perché da quando è diventato padre qualcosa in lui in effetti è cambiato. Israel crea anche il suo kill kit, ossia il kit per commettere l'omicidio perfetto che comprende attrezzature per legare le vittime come fascette, corde e nastro adesivo, varie armi come coltelli, pistole e altre munizioni, silenziatori, oggetti per ripulire le scene del crimine per non lasciare tracce come DNA o impronte digitali. Ma non è finita qui. All'interno del kit ci sono anche arnesi per sfregiare e smembrare i corpi e degli strumenti per seppellirli. Tutti questi oggetti vengono riposti in un grosso secchio di plastica arancione che Israel sotterrerà in diversi posti sparsi in tutti gli Stati Uniti. Questo significa che si sposterà molto fingendo di essere in viaggio per i suoi lavori da costruttore o per fare visita ai parenti. Quando arriva nella zona isolata di una nuova destinazione Israel nasconde o seppellisce il kit per commettere l'omicidio perfetto. Tuttavia non ha alcuna fretta di compierlo infatti torna sul posto molto tempo dopo anche un paio d'anni. Dunque, sebbene Israel sente il bisogno di uccidere non si lascia mica trasportare dall'impulso. Preferisce organizzarsi per bene e con largo anticipo pazientare fino a che non ha tutto sotto controllo. Soprattutto seppellendo prima gli oggetti per consumare il crimine non deve poi viaggiare armato e destando sospetti. Quando si sposta nel territorio degli Stati Uniti Israel prende un aereo per raggiungere la meta noleggia una macchina e poi guida percorre centinaia e centinaia di miglia per arrivare negli Stati Confinanti. Esplora diverse zone finché non trova quella che reputa la più adatta e nel frattempo ha rimosso la batteria del telefono e pagato ogni spesa in contanti in modo da non poter essere rintracciato. Non si sa esattamente quanti kit Israel abbia preparato il sepolto negli Stati Uniti. Lui affermerà che sono meno di una dozzina. Online c'è anche una mappa che segnala le possibili tappe attraversate da Israel. A quanto pare ha lasciato un kit a New York in Texas in California e nel Wyoming. Quando Israel torna nella destinazione per commettere un omicidio sa perfettamente dove andare. Ricorda l'esatta posizione di ogni singolo kit. Il 23 marzo del 2007 una donna di 52 anni di nome Randy viene rapita mentre si trova in un parcheggio in Florida e un'ora dopo il suo corpo viene rinvenuto a 6 miglia di distanza a Del Rey Beach. Randy riportava due ferite immortali da arma da fuoco e ha lasciato un marito e due figli. Si presume sia la prima vittima di Israel Keys. Sempre in Florida il 12 dicembre 2007 una donna di 47 anni di nome Nancy e sua figlia Joy di 7 anni vengono trovate uccise a colpi di arma da fuoco nel loro veicolo. Si ritiene che anche loro siano state vittime di Israel ma questo significherebbe che lui ha infranto la sua regola suprema non fare del male ai bambini o alle persone che si trovano con loro. Dunque o il vero colpevole non è lui oppure non si era accorto della presenza della bambina. L'8 aprile 2009 la 48enne Debra Feldman viene rapita nel suo appartamento nel New Jersey. Il suo corpo non viene mai trovato ma si sospetta che Israel lo abbia seppellito da qualche parte a New York. Il 28 maggio del 2011 una donna di 20 anni di nome Maddie Scott scompare dopo aver partecipato a una festa in campeggio nella Columbia Britannica in Canada. Anche il suo corpo non è mai stato ritrovato e anche in questo caso si pensa che l'omicidio sia opera di Israel. Quindi tutti i delitti elencati potrebbero essere collegati a Israel ma non ci sono prove sufficienti per affermare definitivamente che lui sia il responsabile. Probabilmente sarà impossibile fugare questi dubbi perché il presunto colpevole è stato molto bravo a coprire le proprie tracce. Tuttavia è certo che durante questi quattro anni Israel ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti e nel Canada e che ha commesso diversi omicidi potrebbero esserci molte ma molte più vittime di quelle note. Per finanziare i suoi viaggi a sfondo criminale Israel decide di rapinare delle banche infatti non usa mai i suoi soldi. Ovviamente prima di effettuare la rapina si traveste per non farsi riconoscere si attacca una barba finta al volto e indossa dei vestiti che non mettono in evidenza la sua corporatura. È chiaro che Israel è un perfezionista che non lascia nulla al caso e per lui non c'è niente di più adrenalinico di entrare in una banca dominare la scena rubare e farla franca. Israel frequenta molto spesso anche i cimiteri e tende l'agguato alle sue vittime quando sono da sole o gli appaiono vulnerabili. È il caso di una donna di nome Cristina che si trova davanti a una tomba quando all'improvviso vede che un malintenzionato sta correndo verso di lei. Cristina riesce a scappare raggiunge la sua macchina chiude la portiera e mette in moto. Fugge via mentre Israel rimane lì a fissarla. Cristina al momento non sa che è stata presa di mira da Israel Keys ma quando il caso diventerà noto e la sua faccia finirà il telegiornale lei lo riconoscerà. Fortunatamente Cristina si è salvata ma per lei non deve essere stato facile scappare perché Israel quando sceglie una vittima difficilmente se la lascia sfuggire. Israel inoltre si sposta anche nelle zone dove si è appena verificato un disastro naturale raccontando di essere un operaio edile intervenuto per aiutare coloro che sono stati danneggiati dalla catastrofe. In realtà il suo obiettivo resta sempre lo stesso uccidere. Grazie ai suoi macabri studi Israel sa che per evitare di essere identificato deve trovare modi diversi per uccidere le sue vittime. Dunque alcune volte le picchia fino alla morte altre volte le spara anche se il suo metodo preferito rimane lo strangolamento diventa euforico quando avverte la vita che si spegne attraverso gli occhi delle sue vittime. Arriviamo ora al primo omicidio che con certezza viene collegato a Israel. È l'inizio di giugno del 2011 e lui prende un volo da Anchorage diretto a Chicago noleggia un'auto rimuove la batteria dal suo cellulare e guida per mille miglia fino ad arrivare nel Vermont. Qui recupera uno dei suoi kit che aveva nascosto ben due anni prima e passa alcuni giorni a esplorare la zona. L'8 giugno trova il suo obiettivo individua una casa piuttosto isolata nella città di Essex e si assicura che non sia abitata anche da bambini. Non ci sono nemmeno cani il che per lui è un'ottima notizia visto che potrebbero abbaiare e attirare l'attenzione. La casa inoltre ha il garage un requisito utilissimo per introdursi all'interno più facilmente. Israel in pratica ha trovato la casa perfetta quella che soddisfa tutte le sue esigenze e abitata da una coppia sulla cinquantina composta da Bill e Lorraine Currier. Bill è un tecnico di un ospedale veterinario mentre Lorraine è un'operatrice di uno studio medico. Si tratta di due persone amichevoli buone e pacifiche che vivono una vita felice insieme. La sera dell'8 giugno Israel si siede all'esterno della casa e rimane lì a guardare i coniugi per un po'. Poi taglia i fili del telefono per capire se scatterà l'allarme di sicurezza. Israel rimane in attesa per due ore nessun allarme è scattato quindi la polizia non è stata chiamata sul posto. Quando la coppia e i vicini di casa vanno a dormire Israel usa un piede di porco per scassinare una finestra del garage. Da lì sale al piano di sopra entra in casa nel giro di 6 secondi o almeno così dirà durante la confessione Israel è già nella camera da letto di Bill e Lorraine. L'attacco è violento e frenetico Israel punta la pistola in faccia ai coniugi dicendo loro che devono fare tutto ciò che lui ordinerà. Bill e Lorraine svegliati di soprassalto sono confusi e anche alquanto terrorizzati. Israel li lega e saccheggia la loro casa forse col fine di simulare una rapina sfociata in un sequestro. Infine prende le chiavi della macchina di Bill e obbliga la coppia a salire a bordo mentre i due sono ancora legati. Il garage interno alla casa si rivela utile ancora una volta perché Israel può introdursi nell'auto delle vittime e farvi entrare i malcapitati senza che i vicini si accorgano della situazione. Israel guida fino a una fattoria abbandonata avvistata qualche giorno prima nel frattempo Bill e Lorraine lo implorano di lasciarli andare gli dicono che non sono le persone che sta cercando convinti che ci sia un equivoco sull'identità delle vittime Bill cerca di far ragionare Israel gli racconta di sé della sua vita si mostra umano ai suoi occhi gli dice che una volta era nell'esercito ma Israel non importa nulla dei suoi racconti se ne frega del vissuto di Bill anzi gli risponde ridendo non hai idea da quanto tempo sto pianificando tutto questo una volta arrivati nella fattoria abbandonata Israel trascina Bill fuori dall'auto lo porta nella cascina lo lega nel seminterrato e poi inizia a picchiarlo violentemente tuttavia non vuole ucciderlo di botte ma lo pesta per affermare la sua autorità su di lui per stabilire chi ha il controllo della situazione dopodiché Israel torna alla macchina per prendere Lorraine ma lei è riuscita a scappare sta correndo via Israel a questo punto si fa prendere dal panico non l'aveva proprio previsto purtroppo Lorraine non riesce a fare molta strada perché Israel presto la raggiunge la placca a terra e la trascina all'interno della casa la porta al piano di sopra in una camera da letto e lega anche lei prima di aggredirla intimamente nel frattempo Bill è ancora cosciente al piano di sotto nel seminterrato da cui ahimè riesce a sentire tutto Israel si prende una pausa fuma un sigaro all'esterno poi rientra nella stanza dove è legata Lorraine le si avvicina le mette una mano intorno alla gola e la strangola a morte in seguito torna nel seminterrato dove Bill non è più legato anche lui è riuscito a liberarsi nemmeno questo rientrava nei piani di Israel che estrae una pistola e gli spara uccidendolo sul colpo compiuto il duplice omicidio Israel prende il resto del suo kit dall'auto recupera i detersivi e li cosparge sui corpi di Bill e Lorraine intende rimuovere qualsiasi traccia del DNA ed eventuali impronte digitali poi avvolge i cadaveri dentro grossi sacchetti di plastica e li seppellisce sotto alcuni materiali di scarto presenti nel seminterrato infine se ne va Israel si riappropria del suo veicolo a noleggio e si reca in una città nei pressi di New York per liberarsi dalla pistola del silenziatore dopodiché si dirige in aeroporto e prende un volo per tornare ad Anchorage i corpi di Bill e Lorraine non vengono ritrovati la loro scomparsa viene denunciata ma nessuno sa cosa possa essere successo alla coppia nel corso dell'anno successivo la polizia del Vermont avvia le indagini ma si imbatte soltanto in vicoli ciechi intanto Israel si limita a osservare la situazione da lontano cerca informazioni sugli omicidi da lui commessi dal suo laptop e si bea della propria scaltrezza passano circa otto mesi è il febbraio del 2012 la prossima vittima si chiama Samantha Koenig Samantha ha 18 anni sei fratelli ed è nata proprio ad Anchorage la città dell'Alaska dove viva Israel il 30 agosto del 1993 Samantha viene descritta come una ragazza adorabile ama gli animali la musica ha tanti amici a cui tiene ed è sempre pronta ad aiutarli quando hanno bisogno adora passare del tempo con la sua famiglia e il suo fidanzato Samantha lavora come barista al Common Grounds Coffee ad Anchorage un chiosco dove i clienti si avvicinano alla finestra come vedete nella foto per ordinare un caffè o un tè caldo il chiosco è aperto 24 ore su 24 e il padre di Samantha è un po' preoccupato dato che la figlia lavora anche di notte da sola ma lei lo rassicura dicendogli che ci sono le videocamere di sorveglianza e un pulsante antipanico Israel sta tenendo d'occhio il chiosco da tempo per rapinarlo e rapire la barista al momento opportuno anche questo piano quindi va contro una regola importante che Israel si è imposto negli anni cioè non commettere un crimine nel luogo in cui vive ma forse ormai si sente sicuro di sé e desidera avvertire il brivido che gli suscita questa orribile sfida sono le 20 del primo febbraio 2012 quando Israel decide di rapinare il chiosco e rapire la barista Israel si avvicina alla finestra e ordina un caffè americano Samantha sta lavorando quindi gli dà le spalle mentre inizia a preparargli il caffè solo quando si gira per porgerglielo si rende conto che Israel le sta puntando contro una pistola la scena è tra l'altro immortalata dalla telecamera di sorveglianza presente nel chiosco anche se il malintenzionato non è visibile si nota soltanto la sua pistola che sporge dalla finestra e la povera Samantha che alza le braccia Israel le dice di spegnere le luci e di prendere i soldi dalla cassa ordini che lei esegue immediatamente forse convinta che se seconda il rapinatore si salverà purtroppo però questo non accade come mostrano i filmati Israel entra nel chiosco dalla finestra lega le mani di Samantha le riempie la bocca di fazzoletti per impedirle di urlare e la trascina fuori dal chiosco la obbliga a salire sul retro della sua macchina le toglie i tovaglioli dalla bocca ma la minaccia dicendole che se avesse provato a scappare l'avrebbe uccisa dopodiché mette in moto anche questa azione va contro le regole autoimposte di Israel che non aveva mai usato la propria automobile prima d'ora per portare a termine un crimine infatti le aveva sempre noleggiate dopo aver lasciato il chiosco Israel guida per qualche ora sta temporeggiando perché ha intenzione di portare Samantha in casa propria e vuole aspettare che la sua compagna e sua figlia vadano a dormire dopo qualche ora si decide a condurre Samantha nei pressi della sua abitazione la obbliga a rimanere sul sedile posteriore la ricopra con dei teli e le dice di stare ferma se prova a scappare lui la ucciderà Israel a questo punto entra in casa recupera una benda e torna in macchina fa uscire Samantha dall'auto bendata e la porta in una capanno accanto alla casa dove ha già sistemato delle corde uno scaldabagno dei sacchi della spazzatura un sacco a pelo e una radio Israel accende immediatamente la radio per coprire qualsiasi rumore che Samantha possa fare anche se avverte di nuovo che l'avrebbe uccisa se le avesse gridato ora che Israel è riuscito a farla prigioniera mette in atto la seconda parte del piano dice Samantha che vuole usarla per ottenere un riscatto ma lei lo guarda in credula la sua famiglia non è ricca Israel allora le chiede dove siano il suo telefono e la sua carta di debito ma Samantha non li ha con sé il cellulare è rimasto nel chiosco mentre la carta di debito si trova nell'auto del suo ragazzo il sequestratore la costringe a sedersi su un sec e la lega con una corda presente nel capanno ancorando il collo di Samantha al muro e impedendole di muoversi a questo punto le chiede dove viva il suo fidanzato e lei non ha altra scelta che fornirgli l'indirizzo Israel quindi si dirige a casa del fidanzato di Samantha rompe il vetro della sua macchina e ruba la carta di debito della ragazza il giovane in realtà lo coglie sul fatto mentre sta compiendo il furto e corre in strada ma Israel riesce a scappare torna al chiosco e recupera il cellulare di Samantha poi si ferma un bancomat per controllare se il pin che lei gli ha comunicato è corretto tutte queste azioni compiute da Israel sono molto rischiose e sembrano contraddire la prudenza che lui aveva sempre adottato forse si è stufato di non correre rischi oppure sta perdendo l'autocontrollo che si era imposto per anni vuole dimostrare che è abbastanza scaltro da farla franca ugualmente vuole capire fino a che punto può spingersi prima di essere catturato in ogni caso Israel rientra in casa propria si versa un bicchiere di vino e si assicura che la compagna e la figlia stiano ancora dormendo il resto della serata lo passa nel capanno porge a Samantha un bicchiere d'acqua lei lo beve poi lui fa violenza intima su di lei più e più volte con sua figlia e la sua compagna che dormono a pochi metri di distanza Samantha a questo punto crede che Israel non l'avrebbe uccisa bensì l'avrebbe tenuta in vita per ottenere un riscatto ma purtroppo lui ha mentito sui suoi piani dopo aver fatto violenza su di lei più volte la strangola fino a ucciderla poi pugnala il suo corpo più volte si presume infine ma non è stato accertato al 100% che Israel si sia addirittura approfittato del cadavere di Samantha Israel ha appeso alle pareti del carpannone il corpo della poverina per il collo giusto per assicurarsi che davvero non fosse più in vita dopodiché entra in casa sua per farsi una doccia torna nel capannone avvolge il corpo di Samantha in un telo e lo infila in un armadietto lì presente è ormai mattina Israel è in casa sveglia sua figlia e la porta a scuola come se nulla fosse successo per coprire le proprie tracce usa il telefono di Samantha e manda un messaggio al suo fidanzato fingendo di essere lei scrive ho avuto una brutta giornata sto trascorrendo un po' di tempo con alcuni amici il ragazzo di Samantha era già molto preoccupato perché quando è arrivato al chiosco per andare a prenderla dopo il lavoro non l'ha trovata dunque questo messaggio l'allarma ancora di più non sembra scritto da lei e il ragazzo risponde che diavolo sta succedendo intanto durante la mattinata la famiglia di Samantha si mette in contatto con il suo datore di lavoro il quale controlla i firmati di videosorveglianza e si rende conto che la ragazza è stata rapita quindi lo comunica ai suoi genitori loro chiaramente contattano immediatamente la polizia che poi chiede supporto all'FBI il padre di Samantha partecipa a numerose conferenze stampa chiedendo al rapitore di riportargli sua figlia a casa sana e salva tutta la comunità si riunisce per cercare Samantha e per mostrare sostegno purtroppo nessuno sa ancora che lei ha già perso la vita mentre le ricerche di Samantha sono in corso Israel parte per una cruciera di due settimane ai Caraibi anche questa mossa è molto rischiosa visto che il corpo di Samantha si trova ancora nel suo capannone al termine della crociera Israel attraversa il Texas e decide di bruciare una casa completamente a caso e di rapinare una banca poi torna in Alaska non è noto dove si trovino la fidanzata e la figlia durante questi due fuori programma ma è certo che in crociera sono andate con lui tornato in Alaska Israel si rende conto che l'FBI sta cercando Samantha e se prima si elettrizzava cercando notizie sulle indagini relative alle sue vittime precedenti immaginatevelo ora che può assistere alle ricerche dal vivo l'FBI effettivamente sta effettuando parecchie perquisizioni ma Israel vuole ancora ottenere il riscatto della famiglia di Samantha quindi è scogita un piano pensa che i parenti della ragazza vogliano una prova del fatto che lei sia ancora in vita tramite una foto un video o una telefonata ma siccome l'ha già uccisa decide di scattare una foto in cui Samantha sembri ancora viva quindi va al capannone e tira fuori il suo cadavere dall'armadietto che intanto nel gelido inverno d'Alaska si è congelato per scongelare il corpo Israel va a casa e recupera un asciugacapelli poi replica il gesto agghiacciante che gli verrà attribuito si approfitta dei resti della poverina una volta soddisfatto sistema il suo corpo su una sedia ma la ragazza continua a sembrare morta allora Israel rientra nella propria abitazione e prende alcuni cosmetici della sua fidanzata e trucca il viso di Samantha sempre nel tentativo di farla apparire viva le intreccia anche i capelli replicando l'acconciatura che è solito fare a sua figlia e le cucce e le palpebre in modo che gli occhi restino aperti infine posiziona un giornale uscito di recente accanto al corpo e scatta una fotografia vi avviso che online c'è una foto che non è quella reale è stata ricreata ma la fotografia originale la polizia non l'ha mai resa pubblica poi Israel invia un sms al fidanzato di Samantha scrivendogli la bacheca al Connors Park sotto la foto di Albert non è carina il suo è chiaramente un indizio l'fba e la famiglia di Samantha si precipitano al parco individuano la bacheca menzionata da Israel e la foto di un cane scomparso di nome Albert sotto la foto del cane appaiono la richiesta di riscatto pari a 30.000 dollari e la foto di Samantha che sconvolge i suoi familiari quella non sembra neanche la loro Samantha è in uno stato terribile ma non intuiscono che è morta anzi a dirla tutti i suoi parenti sono sollevati dalla notizia che lei sia ancora in vita ovviamente siccome è tenuta in ostaggio da qualche settimana il suo aspetto non è dei migliori è questo è ciò che pensano in base alla richiesta di riscatto i 30.000 dollari devono essere depositati sul conto corrente di Samantha con l'aiuto della comunità locale i suoi familiari riescono a raccogliere la cifra e a versarla ovviamente l'fbi monitora il conto corrente sperando così di riuscire a catturare il rapitore di Samantha nei successivi due giorni gli agenti aspettano che qualcuno prelevi i soldi tuttavia Israel in questo momento è concentrato su cosa fare con il corpo della vittima decide di smembrarlo nel suo capannone per poi recarsi presso un lago ghiacciato finge di essere un pescatore crea un buco nel lago e poi vi cala lentamente all'interno ogni pezzo del cadavere di Samantha poi già che c'è ne approfitta per pescare davvero e torna a casa con qualche pesce che cucina e fa mangiare alla sua famiglia solo a questo punto effettua il primo prelievo dal conto corrente di Samantha quando lo fa viene immediatamente segnalato alle forze dell'ordine e ci sono anche delle telecamere che inquadrano il bancomat dove è andato a prelevare ma Israel ha il viso abbastanza coperto come potete vedere da questa foto non è riconoscibile poi effettua altri due prelievi da altri due bancomat diversi quando le forze dell'ordine arrivano sul posto Israel però è già andato via sembra che lui sia sempre un passo avanti che sia davvero astuto tuttavia non è così Israel sta chiaramente abbassando la guardia presta meno attenzione ai dettagli prima era più meticoloso e accorto a non lasciare tracce Israel si imbarca su un volo per Las Vegas e poi usando un'auto a noleggio deve spostarsi in Texas per partecipare a un matrimonio di famiglia da quando è stato cacciato di casa i contatti con i suoi parenti sono stati sporadici ma c'è stata una sorta di riconciliazione Israel durante il percorso usa la carta di debito di Samantha una scelta che tradisce decisamente la sua genialità l'FBI scopre così che la carta di Samantha viene usata in Arizona nel New Mexico e infine in Texas i filmati di videosorveglianza di un bancomat del Texas riprendono un uomo che indossa chiaramente un travestimento come già successo in Alaska ma in questo caso Israel commette un errore sullo sfondo del video ripreso dalle telecamere l'FBI nota anche la macchina del rapitore una Ford Focus bianca le agenti forniscono una descrizione dell'auto e dell'avegliamento di Israel alle forze dell'ordine locali e finalmente il 13 marzo 2012 c'è una svolta un poliziotto autostradale del Texas avvista a Lufkin un uomo che guida una Ford Focus bianca e il suo aspetto combacia con quello del ricercato dell'FBI il poliziotto decide di seguirlo e appena Israel inizia ad accelerare l'agente lo ferma per una piccola violazione del codice stradale apre il bagagliaio dell'auto e trova degli occhiali da sole un passamontagna una pistola la carta di debito e il cellulare di Samantha è a questo punto che Israel Keys viene finalmente arrestato dopo l'arresto Israel viene trasferito nella sua città ad Anchorage in Alaska e viene sottoposto a una serie di interrogatori dall'FBI quando Israel si siede la prima cosa che dice è se volete che io parli mi servirà un americano da Starbucks una barretta di sneakers e un sigaro l'FBI accontenta le sue richieste poi gli chiede di Samantha Israel confessa che l'ha uccisa questa scoperta è straziante per i familiari della ragazza convinti che fosse stata rapita per una richiesta di riscatto appresa la notizia l'FBI vuole sapere dov'è il corpo di Samantha Israel chiede un altro caffè americano un altro snack e di nuovo viene accontentato dopodiché dice agli agenti che il suo cadavere è sul fondo di un lago ghiacciato l'FBI segue le sue indicazioni e trova i resti di Samantha a questo punto gli agenti federali iniziano a pensare che Israel possa aver commesso anche altri delitti il modo in cui lui descrive l'omicidio di Samantha è davvero spaventoso non traspare nessuna emozione dal suo viso è freddo calmo disinvolto quando i federali gli chiedono apertamente se abbia ucciso qualcun altro Israel fa l'ennesima richiesta prima di rispondere alla loro domanda afferma vi dirò tutto ma una condizione il mio nome non deve essere divulgato alla stampa Israel è uno dei pochi serial che non vuole attirare l'attenzione non desidera che i media parlano di lui perché non vuole che sua figlia sappia cosa ha fatto chiede addirittura di essere condannato a morte e che venga stabilita una data di esecuzione vuole essere ucciso rapidamente massimo entro un anno e dice che vuole uscire di scena con dei ben ricordi come sapete l'FBI in questo caso non può garantirgli ciò che vuole non può indicargli su due piedi una data di esecuzione non può nemmeno condannarlo alla pena di morte dato che Israel non ha ancora subito un processo tuttavia l'FBI bleffa se lui accetta di collaborare seriamente loro proveranno a realizzare i suoi desideri molto letamente nel corso dei mesi a venire Israel rivela minuscoli frammenti di informazioni inizia raccontando la sua infanzia e l'educazione che gli è stata impartita e afferma è da quando ha 14 anni che penso a delle cose che credevo fossero normali ma nessun altro pensava che lo fossero e poi scopo in una risata che ammetto mi innervosisce e non poco continua il suo racconto ripercorrendo i giorni che ha passato nell'esercito e infine approfondisce l'argomento della sua sete assassina parla della sua prima aggressione intima quella esercitata sulla ragazza che stava facendo rafting sul fiume e si era allontanata dal suo gruppo Israel racconta che l'ha lasciata vivere pentendosene amaramente parla anche della sua mitodologia nell'attuazione dei crimini dei kit per commettere gli omicidi sepolti in svariati paesi degli stati uniti delle vittime che ha preso di mira e spiega come le sceglieva ho guardato tutte le sue interviste la cosa che più mi disturba delle sue confessioni lo ammetto è la sua risata e vi inserisco una clip in questo momento di Israel Kiss che ride ho guardato tutte le sue interviste interamente disponibili qui su youtube ma vi avviso che sono inquietanti perché anche l'fbi per stare al gioco di Israel finge di ridere con lui e so che è il loro lavoro perché si tratta di una tattica per farlo parlare ma mi ha turbato ugualmente devo dire la verità passano mesi Israel viene sottoposto a una marea di interrogatori e fino alla fine ci farete caso se guarderete i video integrali ha sempre quel dannatissimo caffè americano tra le mani sempre sempre Israel racconta agli investigatori anche del duplice omicidio di Bill e Lorraine dunque del kit che aveva nascosto nel Vermont due anni prima nel 2009 solo quando è stato pronto a uccidere nel 2011 è andato a recuperarlo Israel riferisce ai federali dei dettagli che non sono mai stati sottolineati al pubblico ossia che aveva rubato i portafogli di Bill e Lorraine alla fine rivela il luogo in cui aveva seppellito i corpi dei coniugi ossia nel seminterrato della fattoria abbandonata i federali si precipitano lì sperando di recuperarli ma purtroppo la fattoria era stata demolita gli operai che avevano lavorato lì dentro hanno documentato che dalla casa proveniva un terribile odore di morte tuttavia non era mai partita un'indagine quindi i corpi di Bill e Lorraine erano finiti in una discarica insieme ad altri detriti e macerie l'fbi vi si reca ed effettua un'approfondita perquisizione che procede per 12 settimane ma non riesce a individuare i resti di Bill e Lorraine quando l'fbi torna da Israel per raccontare cosa è successo lui lo trova molto divertente mentre ridacchia ancora non sa che c'è stata una via di fuga di notizia nel Vermont e che i media locali gli hanno attribuito l'omicidio di Bill e Lorraine se ricordate Israel voleva che il suo nome rimanesse segreto dunque quando lo scopre si infuria e dice ai federali che hanno tradito la sua fiducia quindi non vuole più collaborare con loro l'FBI in merito non ha colpe anzi reputa seccante questo risvolto dopo che era riuscito a conquistarsi la fiducia di Israel lui si stava davvero aprendo sempre di più ora dopo ora ma adesso non vuole più parlare di conseguenza occorrono mesi per ricostruire questa fiducia dopodiché Israel fornisce altre piccole sporadiche informazioni esattamente come aveva fatto all'inizio Israel confessa alcuni omicidi commessi a Washington rivelando che c'è un cadavere nel lago Crescent e altri consumati a Nebay cioè quelli di cui vi ho parlato all'inizio del video dunque tutto ciò che oggi sappiamo l'ha raccontato proprio Israel ma i corpi non sono neanche mai stati ritrovati tuttavia da quando è avvenuta la fuga di notizie Israel non fornisce troppi dettagli è piuttosto vago quando parla degli altri delitti come quelli commessi nel New Jersey nell'aprile del 2009 è da allora che l'FBI sta cercando in vano alcune persone scomparsi in quest'area perquisendo il laptop di Israel gli agenti si accorgono che lui ha effettuato molte ricerche su Google riguardo a una di queste persone ossia Debra Feldman quindi i federali stampano numerose foto delle persone scomparse nel periodo in questione per mostrarla a Israel quando gli balza agli occhi la fotografia di Debra lui afferma non sono ancora pronto per parlarne frase che suona come una confessione dunque questo omicidio non può essere ufficialmente confermato ma secondo l'indagine dell'FBI Debra dovrebbe essere la quarta vittima di Israel i federali per risalire al quantitativo reale di delitti hanno pronunciato anche numeri casuali dicendo parlaci dei tuoi dieci omicidi o sette omicidi e così via ma Israel ogni volta li ha corretti dicendo non ho mai detto di aver ucciso dieci persone o non ho mai detto di aver ucciso sette persone eccetera eccetera lui ripete sempre di averne uccise meno di una dozzina quando il detective allora gli dice beh raccontaci dei tuoi undici omicidi Israel a quel punto non lo corregge per questo l'FBI crede fermamente che Israel abbia ucciso undici persone questi interrogatori con i federali procedono per sette mesi un lasso temporale davvero lungo se confrontato con il quantitativo di informazioni ottenute inoltre durante le confessioni Israel ha mantenuto il pieno controllo della situazione per tutto il tempo i federali non hanno fatto altro che assecondarlo nella domenica del 2 dicembre del 2012 le indagini dei federali vengono stroncate dallo stesso Israel infatti durante un controllo di routine una guardia carceraria entra nella cella di Israel Keyes e scopre che si è tolto la vita com'è potuto succedere? beh pare che Israel sia riuscito a rubare o a ottenere un rasoio mentre si trovava nella prigione di Anchorage a marzo 2013 avrebbe dovuto aver luogo il processo per l'omicidio di Samantha ma Israel aveva nascosto il rasoio nella sua cella ha rimosso la lama e quella notte si è infilato sotto le coperte e si è tagliato il polso sinistro poi ha provato anche a impiccarsi l'autopsia non è servita a determinare se lui sia morto a causa dello strangolamento o della perdita di sangue Israel lascia anche un messaggio lungo 4 pagine l'FBI spera che contenga i dettagli sulle altre persone da lui uccise invece si tratta di una lunga poesia sconclusionata sotto il letto della sua cella Israel lascia anche 12 fogli su cui con il suo sangue ha disegnato 11 teschi e un pentagramma su uno dei disegni si legge la scritta We are one che tradotto in italiano significa siamo una cosa sola per l'FBI questa è un'ulteriore prova che suggerisce che Israel avesse ucciso 11 vittime a seguito della sua morte l'FBI continua a portare avanti il caso non vengono trovate ulteriori vittime del killer ma viene individuato uno dei suoi kit nel bacino idrico di Blake Falls nella Dirondack Park a Parishville New York l'FBI rivela anche pubblicamente la presunta cronologia dei viaggi di Israel ci sono mappe interattive che potete consultare online ma nonostante ciò a nessuno degli altri crimini da lui commessi viene data una risoluzione il dubbio che affligge molte persone è Israel Kiss ha ucciso solo 11 vittime siccome era un killer ben organizzato freddo e calcolatore non mi stupirebbe se avesse consumato ulteriori diritti rimasti sommersi infatti l'FBI è arrivata alla conclusione che lui possa essere l'autore di oltre 30 omicidi forse se Israel non si fosse tolto la vita a quel tempo l'FBI sarebbe riuscito a risalire a dei dati certi questo caso è un'oscura finestra su una mente criminale contorta che la disorientante coltre nera del male rende impossibile aprire del tutto detto questo io ho finito di parlare in questo video questo caso mi ha stupita particolarmente non avevo mai sentito parlare di un serial di questo tipo e sono curiosa di sentire quali sono le vostre opinioni perché secondo me ci vuole davvero una certa pazienza per fare ciò che ha fatto Israel prendere spostarsi prendere aerei nascondere dei kit per commettere un omicidio in posti diversi degli Stati Uniti ritornare due anni dopo recuperare i kit scegliere una vittima a caso non lo so di certo è un serial a mio avviso unico nel suo genere ma sono curiosa di sapere anche la vostra opinione fatemi sapere quello che volete quindi qua sotto nei commenti come al solito ci becchiamo qua sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate niente di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.